No, 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 no Io questo è ciò che nascondeva sotto Io non ce la faccio più 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 Galo io non ce la faccio più di queste sculate Oggi è un giorno Oggi ho le mani d'oro 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 Quel dado discount mi ha dato un'offerta molto buona Io non ho accettato Ma comunque Questo è ciò che ho ottenuto E sono orgoglioso di non aver accettato l'offerta del dado